Allora, siamo qui con Gigen, il tuo nome? Matteo Come mai il personaggio? È un personaggio che mi ha sempre affascinato, silenzioso, misterioso Un po' non dico che mi caratterizza, ma forse è quello che tra tutti un po' più mi assomiglia E la prima volta che fai cosplay? Il cosplay l'ho già fatto a Lucca, mi è piaciuto così tanto che ho voluto riprepararlo Quanto tempo ci hai messo da fare i vestiti? Almeno un paio di mesi, ricercare tutti i pezzi che più si adattassero al personaggio Dopo sei con noi alla sfilata? Certo, sono venuto qua apposta per questo Ok, allora ci vediamo più tardi, grazie Ciao